Sappiamo che qui sotto nella cripta è conservato il tuo leggendario tesoro. Solo la tua magnifica mitra, il tuo cappello, è pieno di gemme preziose. Non ne basterebbe un. San Gennaro, tu che dici? Vai tranquillo, vai! Non ci sono problemi, vai facile! Lo puoi fare, lo puoi fare! Ti preoccupare, sei sentito a me, Geremia! Ha parlato? Tu hai sentito? Vai facile, non ci sono problemi, vai tranquillo! Aspetta, aspetta! San Gennaro, io ti rifaccio la domanda solo per avere la certezza. Tu hai detto che sei disposto a farci prendere un gioiello della tua mitra? Ho detto vai tranquillo, non ti preoccupare! Ci sto qua io che ti aiuto! Quindi ne possiamo prendere anche due? Piano, piano! Chiedo scusa, ho esagerato, basta una!